Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code per il traffico intenso alla barriera di Pisa Nord in direzione Pisa. L'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla statale 1 Aurelia a tratto chiuso per lavori tra chilometri 317 e 400 e 315 e 150 tra Stagno e la variante di Quercianella in direzione Sud. Per lo stesso motivo chiusi gli svincoli di Livorno Centro e Porta Terra sempre verso Sud. Spostandoci sulla statale 3 Bistiverina a svincolo chiuso a Canili in direzione del raccordo Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!